Amici cari di fatti e di sfatti, c'era una volta un virus, era un virus probabilmente rimontato, artificiale, proveniente dalla Cina, fatto non si sa perché. Questo virus della famiglia del raffreddore produce una sindrome, in alcuni casi modestissima, senza nessun sintomo che vada al di là di quello di una banale influenza, anche neppure, e in qualche raro caso, soprattutto negli anziani e i defedati, può dare la morte. Questo lo rende suscettibile di produrre il terrore che serviva. Si arriva a che cosa? Per esempio adesso, quasi certamente io credo, a rinviare la consultazione elettorale. Ci sono svolte consultazioni elettorali in Italia anche in occasione di epidemie che avevano fatto un milione di morti, come l'Asiatica, ci sono svolte in condizioni belliche o prebelliche, ma credo che mai come in questo momento la necessità di cancellare, di reprimere, di dissolvere la democrazia sia impellente per l'elite che ci vuole portare dove. Io credo che molto bene Giorgia Meloni abbia sollevato questa questione e credo che dobbiamo denunciare questa sospensione della democrazia e capire quale terribile gioco strumentale a livello planetario è in atto. Un gioco che serve a rendere ragione di titoli tossici che non saranno mai pagati, che serve a riaffermare un'elite finanziaria internazionale e che ha una data termine che vi annuncio, che è quella delle elezioni americane. Se Trump non sarà riletto questa situazione si cronicizzerà, forse si voterà ancora ma si voterà inutilmente e forse anche quello che abbiamo chiamato democrazia verrà sostituita da una tecnocrazia poliziesco, sanitario, mediatica che ha qualche cosa di oscenamento arueliano ma di cui non comprendiamo ancora il terrore e la profondità. Quindi temo che il lockdown ormai sia stato deciso e sarà, credo, debolissima la reazione vera degli italiani anche perché non abbiamo una struttura in grado di resistere. Va bene fanno i leader come Giorgio Menone e Salvini a tentare di resistere. Affianchiamoli perlomeno.